Sto facendo un video qui, tutti colpi in cottero, Doriano vai, tutti colpi in cottero, tutti colpi in cottero. Siete pronti? Siete pronti? Anche voi di là? Non c'entra niente. Io intanto sto facendo un video se volete dirgli che forse ci vediamo in prato. No, no, no! No, no! Sto facendo un video! No, no! 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 No!